Dunque questa è stata la mia conclusione operativa del 104, la mia conclusione, perché il 104 ha continuato in perterrito a fare le sue prestazioni e sono andato alla scuola di guerra a quell'epoca ha finito il comando del ventesimo e seconda scuola di guerra e da cui sono uscito con la scuola di guerra devo raccontare anche questa bisogna perché fa parte della gioia di essere piloti del ventesimo gruppo. Allora il mio adorato comandante Scherna, oggi mancato poverino, era disperato perché io sapevo che a conclusione si sapeva che dovevo andare a fare il corso di scuola di guerra superiore alla fine del mio comando e quindi ero entrato nell'ingranaggio della scuola di guerra di Firenze con largo anticipo. La scuola di guerra ha incominciato dall'estate, la scuola di guerra incomincia l'autunno, qualcosa come ottobre-novembre e incomincia dall'estate a mandarti a fare dei compiti, ti manda dei compiti, delle cose da scrivere. Io una scuola di guerra l'avevo già fatta, il corso inferiore, che era molto più tecnico, che insegna a fare le relazioni, quella roba è lì. Sopra invece è un pochino più filosofico, avevi dei professori del tipo Gianni Agnelli, venivano gli ambasciatori a insegnarci, a tenerci le lezioni, gli ambasciatori della Russia, gli ambasciatori della Germania, gente a cui si potevano porre delle domande veramente serie. Ed era un bellissimo corso quello della scuola di guerra, che incominciava fin da prima perché questi colonnelli, io a quell'epoca lì ero diventato colonnello e quindi non so, c'era Lucianino Meloni, Lucianino Meloni era il capocorso del Marte prima di me, erano queste rocce, questa gente veramente in gamba che aveva fatto. Io ero un poverello operativo che mi ero sbattuto tanto da operativo, ma insomma non avevo fatto quelle pubblicazioni poi pubblicate che lasciano traccia come fanno quelli della scuola di guerra vera. Io non le avevo fatte e quindi mi mandano da fare dei compiti a casa, prima di finire il mio anno di comando e quindi poi andare alla scuola di guerra. Questo compito, non me lo ricordo a memoria, ma era un commento filosofico barra estetico delle, come si chiamano, le bolle papali, recenti, di argomento sociale. La De Rerum Novarum, la Populorum Progressio, sono le prime che mi vengono in mente, ma ce ne sono 7-8 di queste, che erano dei papi recenti, da 50 anni a questa parte, quando i problemi sociali sono nati e che hanno emesso delle bolle, dei documenti ufficiali su queste problematiche di carattere sociale e politico. e la scuola di guerra ci ha mandato sta roba, ha andato a me, sta roba, ma hanno andato anche agli altri, sta roba di preparazione per togliermi un po' le giunture, togliermi la ruggine dalle giunture e fare una dissertazione di carattere. Io avevo vissuto e stavo vivendo durante il mio comando del ventesimo gruppo, le pene dell'inferno che ho appena detto per riuscire a portare avanti in maniera onorata il mio compito di comandante, che ho portato perché non abbiamo mai avuto guai di nessun genere, dicendo grazie a tutti, fra l'altro. Bene, però ho trascurato un po' la scuola di guerra. Un giorno arriva il comandante Scherna, che veniva a tutte le... il comandante Scherna lo si vede in tutte le fotografie che io ho qua, delle cene, era scapolo ed era una persona straordinaria e io mi sono votato al suo ricordo con grande passione perché lo merita. E il comandante Scherna, anche se si sbacciucchiava a tutte queste signore, era scapolo, queste signore impazzite, ma insomma era Scherna, era lui. era lui. E cosa era... niente, mi chiama e mi dice senti, qui c'è la scuola di guerra che mi sta tempestando del fatto che ti ha mandato già due o tre volte questi elenchi di robe, comprese le coppie di tutte le bolle papali, e tu non hai rimandato dietro niente, non hai detto niente. E dico, comandante, ma lei pensa che io durante tutte queste cose qua possa pensare alle bolle papali di carattere sociale? Ma allora, lei mi dica, Gianelia, vai in licenza per tre mesi e io farò dare un corso alle richieste della scuola di guerra. Adesso non posso, non posso piantare tutto. Ma sì, va là, dai, telefono io al comandante, insomma. La telefonata due o tre, alla fine la cosa è diventata odiosa perché sembrava proprio che ce l'avessi con la scuola di guerra che invece è un'istituzione dal punto di vista filosofico, barra mentale, barra etico dell'aeronautica di primo grado. Ecco, e allora mi è sovvenuto, io, mi è sovvenuto di mio zio, zio Siro, perché zio Siro era un filosofo nella mia famiglia, acquisito, perché io nella mia famiglia sono tutti professori di matematica, fisica e chimica. E allora, e allora, questo chi era filosofo? Ma noto, nel senso che tutti i libri di filosofia riportavano gli scritti, le cose di zio Siro. Benissimo. A me sembrava un po' così, insomma. e dico, ma vuoi vedere che riesco a sfruttare zio Siro? Gli mando le bolle papali e vi faccio fare il commento da zio Siro. Mando il tutto alla scuola di guerra come roba mia, faccio un figurone e viene fuori la fine del mondo, il campione del mondo. Ecco, e così ho fatto. Vado da zio Siro a Milano, abitava a Milano, e gli dico, senti zio, io devo fare sto compito, per ragioni che non ti sto a spiegare, ma era uno contro la guerra, aveva avuto dei dispiaceri con i tedeschi che l'avevano messo in campo di concentramento, insomma, poveretto. Quindi quando ho sentito che io preferivo addestrare della gente a fare la guerra piuttosto delle bolle papali, si è incazzato un po'. Però poi mi ha detto, mi ha detto, vabbè, tu sei il mio primo nipote e quindi va bene, ti faccio il, vediamo sta roba. E io gli do le bolle papali in questione. E lui se le guarda, io dico, ma zio Siro importante, lavorare già lette, notte, poi erano dei suoi tempi, aveva quell'epoca, aveva trent'anni più di me, quindi delle bolle papali ne sapeva tutti a memoria, da Pio XII, tutti i Pii avevano fatto una bolla papale sui problemi dei sociali. E quindi, vabbè, e zio Siro, niente, non mi, mi ignora, non mi manda a dire questi risultati, io lo protesto un po', poi vado là, dico, senti, zio, mi stanno tempestando, scusami, fammi sapere cosa mandare a dire, perché io gli metto sotto una firma, non le tocco proprio, le mando come tu me le date, questi commenti li vado a fare. E così ho fatto, lui me le date un po' così, non neanche letti, figurati, fra un tonno e un looping, in formazione, io mi metto a leggere le cose papali, non posso, non posso. E ho fatto una firma, mandando alla scuola di guerra, anzi, le ho mandate a Cernal, mio comandante, dico, senta, comandante, la mandi lei, e col suo, se mi può mettere due parole di convenienza, al suo collega generale, comandante della scuola, insomma, mi fa un piacere, perché io ammetto di avere fatto una trasgressione, e lui manda sta roba, e non se ne parla più. Poi un bel giorno, mi chiama Cernal, e mi dice, ma, e dice, io ho ricevuto la risposta al tuo compito delle cose, e mi dice, dai, ti leggo solo le prime due righe, che dice, ma, dice, noi crediamo, noi scriviamo a lei, che è il comandante del colonnello Elia, perché esitiamo a dargli un commento, a commentargli i suoi commenti delle bolle papali. Veda lei di tradurli in maniera opportuna. Insomma, si sentivano presi in giro da cose, io non lo sono neanche andata a leggerle, ma questo zio filosofo ha sempre fatto delle robe, era sui libri di testo, ma come un sovversivo, insomma, io non lo so, si sono sentiti presi per le mele, questi della Guasso, e dice, ci vuol prendere in giro, cosa che il mio adorato colonnello Sherna ha subito smettito, no, guardate, sono io che faccio fede per lui, non vuole prendervi per le mele, è che non può veramente fare questa roba. E quindi sono andato alla scuola di guerra, quando ho finito il gruppo, andò alla scuola di guerra, e mi hanno guardato subito come una bestia rara, perché dice, questo qui è un demente, scrive delle robe che non si possono scrivere, su delle robe sacre come le bolle papali, che io non ho mai letto poi, perché non avevo fisicamente il tempo. E così ho fatto sta scuola di guerra. Ho fatto scuola di guerra, che è riuscita anche bene, non mi ricordo, credo di essere riuscito secondo, perché il primo sarà stato sicuramente il capocorso del corso prima di me, che era molto bravo, era eccezionale, e poi era del quarto stormo, credo di essermi piazzato bene, ecco, alla fine della scuola di guerra. E quindi vengo fuori, e finita la scuola di guerra, si va allo stato maggiore. Mi chiamano allo stato maggiore, mi assegnano allo stato maggiore, mi assegnano al quarto reparto. quarto reparto dove ti trovo il generale Colla Giovanni, mio mentore dall'inizio, che era il comandante del quarto reparto, e trovo lui che mi mette all'ufficio della guerra elettronica, appena cognato, nuovo di pacca. Grazie a tutti.